Roma, bollino rosso, un'ondata di calore che arriva già prima che sia arrivata l'estate. Maria Grazia Minulla del WWF, siamo noi umani che abbiamo alzato la temperatura, noi possiamo dare una risposta a questo problema? Noi dobbiamo dare una risposta a questo problema e la prima cosa da fare è smettere con le cause del fenomeno, e cioè l'immissione in atmosfera di gas serra, la prima causa è proprio il fatto che abbiamo bruciato e stiamo bruciando combustibili fossili a gogò, dobbiamo smetterla, dobbiamo rapidamente uscirne e noi possiamo uscirne già dal 2035, lo dice anche il G7. Poi dobbiamo naturalmente anche adattarci, cioè dobbiamo cercare di cambiare le cose rispetto a una situazione che ormai è mutata e che abbiamo fatto mutare noi, sia ben chiaro. Per far questo dobbiamo per esempio nelle nostre città avere dei grandissimi spazi di natura perché gli alberi sono la tecnologia, tra virgolette, migliore che abbiamo per assorbire CO2, ma soprattutto anche ci danno frescura, quindi anche un metodo di adattamento, cioè per ovviare ai gravi problemi che abbiamo. Roma è una delle città che rischia insieme ad altre grandi capitali del mondo di diventare inabitabili, altrimenti. Con questo grido d'allarme del WWF da Roma ti restituisco la linea.